Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato al nostro, possiamo chiamarlo così, Carlo Levi, nel contesto di queste iniziative che abbiamo voluto dedicargli in occasione dei 120 anni dalla nascita. Ritorno a dire che 120 in un contesto ebraico sono l'augurio per il compleanno più caldo e anche più irraggiungibile che possiamo immaginare perché 120 anni è l'età che solo Mosè ha raggiunto, quindi per ogni compleanno ebraico da un anno in su si augurano fino a 120 anni. Il titolo di questa rassegna è Tutta la vita è lontano, che come forse sapete è tratto da una poesia del 1935 che lui scrisse dal confino ed è una poesia tutto sommato non disperata, anzi come in fondo non disperato, anzi è stato tutto il suo tempo trascorso in quella lontananza così inimmaginabile perché arrivò in Lucania, da Torino, scoprendo un universo diverso, lontano, quasi irreale. Ci sono due obiettivi in questo progetto dedicato a lui. Il primo è naturalmente, non finirò mai di dirlo, con quella specie di innamoramento che sto coltivando di lui. È difficile innamorarsi di una persona che non c'è più da tanti anni, ma forse è anche più possibile di quanto io non immaginassi prima di cadere in questa trama di emozioni, sentimenti e ragionamenti. Restituire Carlo Levi a Torino e restituire Torino a Carlo Levi, la sua città, la città che lasciò a un'età abbastanza giovane, ma a cui tornò regolarmente. Non dimentichiamo che fra i quadri in mostra alla gamma, nel contesto di questo nostro ciclo, c'è la casa bombardata, che è la sua casa di Torino, dove tornò nel 1942 a vederla, perché era stata bombardata ed era devastata. Poi la casa stessa venne ricostruita. Lui parla spesso di Torino nelle lettere all'Inuncia Saba, nelle sue chiacchierate con il mondo e con gli amici. È una città che non gli è mai stata indifferente. E in compenso è una città che un po' ha dimenticato questa figura, per tante ragioni, alcune forse banali. C'è stata forse una sovrapposizione di cognomi, abbiamo anche un altro Levi, quindi incolpevole. C'è stata una forma di accantonamento di questo grande intellettuale, che non amava essere definito intellettuale. Il secondo obiettivo di questo ciclo è riflettere su un concetto sul quale secondo me vale la pena riflettere, cioè quello dell'attualità. Anche Filippo Laporta ne parla diffusamente parlando di Carlo Levi. Allora io credo che tutto sia attuale nel momento in cui c'è e nulla è attuale nel dopo, in un senso di pura trasposizione meccanica. A volte è molto comodo prendere una figura, un momento del passato e dire che è attuale, ma nulla è veramente attuale, se non attraverso la nostra indagine, la ricerca, gli interrogativi che ci poniamo e che poniamo agli autori, ai testi, alle opere del passato. Io in questo senso, io credo che oltre a restituire Carlo Levi a Torino e viceversa, sia importante in qualche modo interrogarsi sulla sua figura, che io non credo sia una figura che possiamo definire attuale. è stato un uomo talmente eclettico che passava con grande disinvoltura, e lo dico in senso positivo, di profonda invidia, dalla pittura alla poesia, dalla politica attiva alla riflessione di viaggio. È una figura quasi rinascimentale in un certo senso, di intellettuale che, ribadisco, non amava questa definizione. e forse non amava per sé nessuna particolare definizione. Ci sono due tratti fondamentali che ne fanno un personaggio sul quale riflettere nel contesto dell'attualità, di che cosa significa essere attuali oggi, venendo dal passato. Uno è questa appunto, questa sua multiformità, la capacità di esplorare generi così diversi. Non dimentichiamo fra l'altro che lui era anche medico, si iscrive all'Università di Torino dopo il liceo, che ha 15 anni e si laurea, diventa medico, eserciterà praticamente solo in Lucania durante il canfino, e contro la legge perché gli era vietato. Però anche questo fa parte del suo essere tale. Io ricordo che nelle tantissime lettere che si scambia con Linuccia Saba, che amò e dalla quale fu amato per tanti decenni, in una sorta di triangolo veramente poco convenzionale, perché Linuccia era sposata, aveva cura di suo marito, e chiede spesso a Carlo Levi consigli di ordine medico per il suo anello. Quindi anche in questo era una figura inafferrabile Levi, anche nella sua vita sentimentale. E poi quello che continua ad affascinarmi e stupirmi di lui è questa continua, instancabile curiosità per il mondo. questo essere sempre sollecitato da quello che lo circonda. Ecco, allora io giro la domanda, che poi domanda non è, sia a Luca sia a Filippo, partendo da questo nostro dovere di interrogarci sull'attualità di Carlo Levi e su cosa significa essere attuali nel tempo che viene dopo. Da chi volete che cominci? Fate voi, io, Filippo. Allora, anzitutto grazie, sono felice di venire al circolo dei lettori e di parlare di Carlo Levi. Sì, l'attualità Carlo Levi è in tutte le antologie scolastiche e è così considerato un classico del Novecento, ma secondo me bisogna levare appunto un po' di polvere a questo monumento, perché certo è un grande classico, ma spesso è una figura quasi depotenziata, quasi una figura un po' inerte. Allora, in questo senso invece, secondo me dobbiamo affermare oggi l'attualità di Levi, che è su vari fronti, dal punto di vista letterario, dal punto di vista politico, ha fatto politica tutta la vita, dal punto di vista anche filosofico, antropologico. Ecco, io proverei un po' a riannodare questi fili, ecco, diciamo, in prima battuta mi vengono in mente queste cose, ecco, sulle arti visive, sulla pittura, ovviamente parlerà Luca. Quindi, ecco, andando, sì, provando a dire anche due o tre cose, partiamo proprio dal Cristo si affermateboli, che non è solo uno dei grandi libri italiani del Novecento, ma è uno dei grandi libri sperimentali del Novecento. Su questo si riflette poco. È un libro ibrido, un po' autobiografia, un po' saggio antropologico, un po' romanzo, scritto con una lingua insieme documentaristica, ma anche lirica, con delle effusioni liriche. È veramente un libro atipico, inclassificabile, e che io ho messo qualche volta a confronto con il pasticciaccio di Gadda. Spero che non vi sembri troppo, l'accostamento non vi sembri arbitrario, ma in fondo hanno delle cose in comune Levi e Gadda. Levi fece un ritratto di Gadda, in cui Gadda somiglia un poco a Hitler, curioso, gli ha messo due baffetti a Gadda. Fa un po' anche, fa effetto questo quadro. Ma diciamo, è chiaro, sono sperimentali in modo diverso. Tra l'altro scrivono i due libri, il Cristo si afferma teboli e il pasticciaccio, negli stessi anni a Firenze, nel 43, 44, 45. Sono sperimentali in modo diverso, perché Gadda, lo sappiamo, disarticola la sintassi, decompone il lessico, invece Carlo Levi mescola i generi letterari. Come vi dicevo prima, è una scrittura spiazzante, perché è una scrittura referenziale, ma anche intensamente metaforica. entrambi, Gadda e Levi, scoprono un mondo altro, Gadda la plebe romana, Levi, appunto i contadini della Basilicata, un mondo semisommerso, a cui danno voce. e tra l'altro, questo lo dico, non si riflette abbastanza sul fatto che il Cristo si afferma teboli è un libro appunto felicemente misto, perché noi dobbiamo abituarci sempre più all'idea che la letteratura non è solo il romanzo. Se voi prendete la famosa antologia di Leopardi, la cristomazia della prosa, beh, ma lui sì, c'è il romanzo, ma è una delle tante modalità della prosa. Ci sono le lettere, le descrizioni, i diari di viaggio, le allegorie. Cioè, voglio dire, l'universo della letteratura è un universo plurale, eterogeneo. Ecco, questo per quanto riguarda la letteratura. Poi, per quanto riguarda il pensiero, beh, io metterei il Cristo accanto, non so, attristi tropici di Levi Strauss, cioè sono i grandi libri. Levi, appunto, è un medico torinese, ebreo-torinese, illuminista, si ritrova nel profondo sud e molto più, per esempio, dello stesso Pavese, che era finito in Calabria, molto più, ma perfino più di De Martino, di Ernesto De Martino. Carlo Levi si fa destabilizzare da quel mondo arcaico, da una cosa straordinaria. Cioè, lui, quel mondo mette in crisi le idee di Carlo Levi, la sua idea della vita e della morte. Davvero è un incontro con un'alterità che lo modifica per sempre. quel mondo non è un mondo da redimere per Levi. Uno dice, beh, sono arretrati, è un mondo da portare al progresso. No, ecco, come Pasolini con i ragazzi di Viti Borgatari. Uno dice, beh, sì, c'è un intento riformatore. No, non è che sono mondi che dobbiamo redimere. No, assolutamente. anzi, per Levi quel mondo lì contiene una critica all'homo economicus della nostra civiltà. Ora, questo che significa, anche qui poi bisogna dirlo, non è che Levi è, come dire, un critico della modernità tipo Mircelli, Had, o, che ne so, René Génon, questi critici reazionari un po' estetizzanti. No, no. ovviamente la cosa interessante di Carlo Levi è che dentro il suo pensiero, dentro la sua opera, ci sono entrambi i poli. Da una parte la fascinazione per la cultura arcaica, per quell'idea, appunto, della vita e della morte, per quel millenarismo, per quel fatalismo, per quella percezione diversa del tempo, per quella percezione della duplicità del reale. Quando arriva a Matera incontra un contadino con un mantello nero e due grandi baffi bianchi, quasi una specie di epifania, un'apparizione spettrale, e questo lo guarda severamente a Carlo Levi e gli fa tutti i santi sono demoni. È una specie di folgorazione, perché c'è questa percezione e quando è venuta in Italia Anita Desai, la scrittrice indiana, ha parlato di Levi che lei aveva letto e ama profondamente, perché questa percezione tutti i santi sono demoni la troviamo anche nel cuore dell'induismo. Diciamo, ecco, questa è la cultura arcaica, però, ripeto, Levi non è un nostalgico estetizzante dell'arcaico o del ritorno all'origine. No, Levi rimane anche razionalista e lui vorrebbe che convivessero nella stessa cultura sia i monachicchi delle campagne lucane che sono i folletti, no, o le streghe e anche i diritti civili, i diritti politici. Levi ha fatto politica tutta la vita, giustizia e libertà, partito d'azione. Per me, questa è una cosa molto personale che vi dico, per me quella è la tradizione giusta. Vabbè, insomma, questa è una mia idea. E anche Calasso in questo ultimo libro che ha fatto, che è uscito quando è proprio il giorno che è morto, lui dice a Firenze gli azionisti erano i giusti, non c'era da dire altro. Ecco, quell'area politica, culturale, beh, ha saputo elaborare un'idea di democrazia come autogoverno, un'idea di democrazia come autonomia degli individui che vengono prima degli apparati. Ecco, diciamo, in Levi ci sono entrambe queste facce. Poi, se volete, dopo parliamo anche un po' del Levi Medico, ma ecco, vi invito a non perdere mai di vista questa interessante polarità che c'è in Levi tra fascinazione per l'arcaico e una cultura che rimane una cultura laica e razionalistica. grazie. Grazie. Poi riprendiamo naturalmente il filo del discorso perché riprendiamo dopo il filo del discorso perché io credo che ci sia da scoprire o riscoprire anche il Levi non del Cristo si è fermato a Ebole ma di tutta una letteratura vera e propria. Luca, sul fronte della pittura come lo inquadriamo o non lo inquadriamo? Prima tu lanciavi il termine attualità è ancora attuale allora a giudicare dagli esiti non solo di Levi ma della pittura in generale direi di no perché l'arte certamente dalmeno le avanguardie del Novecento mi riferisco alle prime avanguardie del Novecento sembra aver preso una direzione diversa non dico posta diversa però d'altra parte e credo che noi siamo qui a testimoniarlo essendo figli del Novecento è un secolo dove il movimento è oscillatorio è pendolare ci sono andate i ritorni c'è il futurismo e contemporaneamente c'è la metafisica sembra una contraddizione ma di fatto è così quindi se guardiamo la pittura e usiamo un termine anche abbastanza così forse esageratamente tranchant la pittura figurativa l'esito sembrerebbe no Carlo Levi non è un artista attuale proviamo però a fare un altro tipo di ragionamento non in maniera così forte come nella letteratura dove certamente quello che diceva Filippo Laporta l'uomo identificato soprattutto con il Cristo si è fermato a Eboli soprattutto nella nostra città parli di Carlo Levi il pittore e dici i sei di Torino che non è sei di Torino i sei di Torino Casorati questa grande grandissima figura di mentore di padre spirituale laico è cinque uomini più una donna di cui Carlo Levi che emergono verso la fine degli anni venti di cui Carlo Levi è il più giovane mentre Jesse Boswell ha 40 anni 41 Carlo Levi ha 21 quindi tenete in considerazione questo fatto è veramente giovane ok un'altra cosa interessante non aderisce al futurismo mai e non guarda al giro sarfattiano né tantomeno al realismo magico nonostante Casorati ne sia stato in qualche misura un po' un interprete secondo me perché antifascista bene o male il secondo futurismo io non credo che esistano delle connivenze precise tra l'arte e il regime sì va bene forse nella pittura celebrativa di Sironi d'altra parte gli artisti venivano assoldati dal regime per realizzare delle opere pubbliche e così andava non che non sia successo anche dopo in altri posti ma il tema assolutamente interessante è che anche il secondo futurismo con l'aropittura anche il novecento sarfattiano formulazione molto interessante ma comunque che un po' il regime fa sua non interessano Carlo Levi Carlo Levi è un pittore figurativo che guarda intanto a Parigi perché come sapete noi torinesi non guardiamo a Roma ma guardiamo a Parigi da sempre un po' perché più o meno le distanze sono simili Les Italiens quando lui va a Parigi Modigliani però è già scomparso i viaggi continui movimenti tra appunto la Francia e l'Italia verso una figurazione molto rarefatta se vogliamo anche del genere pittorico abbiamo scelto non a caso volti e luoghi cioè il ritratto e il paesaggio quando parli di Carlo Levi a Torino come pittore sembra che questa avventura cominci e si concluda lì con i sei che anche da un punto di vista devo dire di mercato hanno avuto la loro forse non tanto adesso però hanno avuto il loro momento in realtà è questo e qui sta il paradosso secondo me il Carlo Levi pittore più interessante è dopo e dopo e prima di arrivare a sud nella mostra avete vista la mostra? e cosa aspettate? io poi controllo su sta cosa perché abbiamo fatto meno male bravo dicevo guardiamo gli esiti gli esiti non quelli diciamo quelli del sud a cui arriveremo tra poco ma il fatto per esempio che nei suoi continui viaggi nel suo spostarsi nell'andare avanti e indietro assume una serie di annotazioni molto interessanti appunto Parigi e un po' di espressionismo Soutine che certamente è un pittore che a lui piace molto non ha ecco non ha l'arcaismo del novecento lui questa roba non interessa rifarsi ai primitivi rifarsi a questi valori che appunto il regime fa suo non è neanche metafisico a ben vedere perché non c'entra Carrà non c'entra De Chirico è davvero uno che va abbastanza per i fatti suoi e diciamo rispetto per esempio alla scuola romana mi riferisco evidentemente a Via Cavour in una piazza del popolo anche lì i colori sono un po' diversi non ci sono i rossi accesi di Scipione non ci sono i tetti di Mafai andiamo avanti l'Italia a parte Renato Guttuso secondo me non ha un grande pittore realista io sono convinto che Guttuso anzi però poi farei un grande lavoro su Guttuso e Moravia magari chi lo sa Guttuso è stato il più grande pittore realista che ha avuto l'Italia fortunatissimo in vita ha un po' un po' nell'oblio dopo la morte forse ha pagato in maniera eccessiva questo suo ideologismo che guardava molto a Zdano fra i compagni dell'Unione Sovietica però Guttuso è stato il grande pittore realista altri non ce ne sono di quel livello quel compito di raccontare la realtà secondo me in Italia l'ha svolto il cinema con Rossellini con i Visconti della Terra Trema con il Vesica di Ladri di Biciclette ebbene Carlo Levi secondo me guarda lì guarda tanto la pittura di Guttuso di cui peraltro è un amico che ha scritto parecchie recensioni molto positive sul lavoro di Carlo gli voleva bene spesso si vedevano a Roma anche ad Alassia perché poi al mare si sta benissimo come ben sapete ebbene il neorealismo questa idea che il neorealismo risolva in qualche misura ciò che la pittura in Italia un po' perché arrivano un po' perché c'è la grande stagione dell'astrattismo cioè non vi dimenticate cito questo episodio a margine a me piace un po' divagare ma nel 48 quando un signore che si chiamava Roderigo di Castiglia va a vedere una mossa di pittori astratti a Bologna e scrive sulle colonie di Rinascita questa è una porcheria tremenda cosa sono questi guazzabugli c'erano Turchato Accardi Consagra Perilli San Filippo questo signore in realtà era Palmiro Togliatti ora io faccio fatica a pensare che Leto e Salvini vadano a vedere una mostra di arte astratta e esprimano un parere così anche militante se vogliamo non ti pare però diciamo quella era anche l'Italia meravigliosa del secondo dopoguerra dell'immediato secondo dopoguerra dove l'intellettualità effettivamente spinge solo nel 47 escono una quantità di libri impressionanti se ci pensiamo paragonati all'oggi e Carlo che cosa fa guarda a questo punto il sud guarda a questo punto il sud e lì la pittura cambia ma secondo me non tanto nelle raffigurazioni di volti di soggetti che indubbiamente qualche volta possono anche sembrare non so per noi turinesi addirittura un po' troppo grotteschi con questa linea forse eccessivamente caricaturale no cambia la luce cambia radicalmente la luce cambia l'impasto cromatico addirittura qualche volta si fa materica perché tu se vai in basilicata se vai in lucania non puoi non essere in qualche misura attratto e colpito da quella luce che non è la nostra la nostra da Torino negli anni venti che non era quella cosa arancione che c'è adesso intorno alla mole tutta inquinata è un'altra roba però è sempre la grigina così ebbene quel cambiare la luce quel diventare una pittura così arsa così estrema secondo me fa va ad incontrare ciò che diceva prima Filippo la porta cioè ti cambia quella roba lì l'ha profondamente cambiato e poi c'è quel grande episodio mi fermo in questa prima parte del telero sapete che 1961 le celebrazioni dell'unità d'Italia si tengono qui in un quartiere che nasce apposta e lui credo spinto un po' da Mario Soldati altro altro piemontese altro fumatore di Sigaro altro donnaiolo lo possiamo dire ecco Mario Soldati gli dice ok proviamo a immaginare un grande lavoro epico sulla Lucania Lucania 61 un quadro che misura 18 metri a 160 personaggi e tra questi compare varie volte il suo amico poeta sindaco di Tricarico Rocco Scotellaro morto credo molto giovane ecco questo racconto del sud che non è come diceva prima la porta il sud da redimere non è il rapporto tra cotto e crudo anche se prima citavi Levi Strauss no è qualcosa che dal punto di vista della pittura cambia completamente la luce cambia completamente il colore e secondo me gli fa fare un salto in avanti piuttosto importante ultima cosa mi ricordi lui muore nel 1975 che giorno 4 gennaio lo stesso anno in cui muore Pasolini allora mi fermo no mi fermo lo dico dopo no lo dico dopo perché quando tu parlavi della luce della Lucania mi è venuto in mente che non so quanto sia leggenda e quanto sia vero quando Pasolini doveva girare il Vangelo è andato a Gerusalemme e non ha trovato quello che cercava non ha trovato la città in cui voleva avrebbe voluto girare il film e poi pare che sia stato proprio Carlo Levi a dirgli prova ad andare a Matera e lì e lì Pasolini girò ed è una questione probabilmente di luce non solo non solo di rapporto fra le macerie di qualcosa che non c'è più e quel poco che era rimasto dei sassi io adesso lo dico così visto che siamo in un'atmosfera colloquiale quando ho visto Matera per la prima volta ci ho messo un po' a decifrarla a provare a decifrarla poi ho capito che in realtà era l'unica cosa che avevo visto e che probabilmente esiste al mondo che ha una vaga somiglianza con Gerusalemme ed è proprio una questione di luce e questa pietra che invece di assorbire la luce la riflette io ho fatto anni fa un giro per Gerusalemme con degli architetti che spiegavano alcuni aspetti della città meno monumentali e spiegavano soprattutto che quando devono studiare degli interni domestici devono fare i conti con una proporzione di luce un tipo di luce molto particolare e cercare in qualche modo di difendersi da questa luce matera è un po' così e adesso proseguendo in questa chiacchierata poi ricordate di tornare su Pasolini c'è un altro aspetto che mi piacerebbe approfondire con voi sia sul piano figurativo cioè della pittura sia su quello narrativo Carlo Levi aveva una curiosità veramente instancabile se voi fate un giro cosa raccomandatissima per questa mostra di fotografie di carbone e di questi oggetti che sono andata a prendere ad Aliano qualche giorno fa per metterli in mostra qui e in realtà la prima fotografia quella di grande formato che sta lì insieme sotto il vetro accanto ai nostri gadget non era prevista nella mostra la portata il figlio di Mario Carbone quando è venuto per l'inaugurazione quella è una foto che ricorda non molto da lontano il quarto stato cioè questo gruppo di contadini che sono sulla strada e fanno una sorta di di muro è un muro sorridente in realtà sono tutti abbastanza gioiosi come volte e Carbone raccontava che quella erano per strada e lì era Mario che doveva lavorare e fare preparare le foto fare le foto in preparazione del telero ma in quel momento fu Carlo Levi che gli disse fermati perché qui fai una foto perché perché questi questa scena questa immagine mi incuriosisce questa sua curiosità per il reale umano naturale urbano storico che sia è quello che gli dà sempre l'ispirazione è un continuo a essere sollecitato da ciò che lo circonda e qui vorrei arrivare a parlare un po' anche delle cose e del tanto che ha scritto è stato uno scrittore estremamente prolifico sul piano della saggistica narrativa racconto poesie ha scritto delle poesie meravigliose racconti di animali ecco c'è forse un filo rosso che lega tutta questa sua produzione letteraria ricchissima e sempre con questi toni così lucidi suggestivi e al tempo stesso semplice una prosa limpida ed è la territorialità c'è sempre come punto di partenza e ispirazione in lui i luoghi noi abbiamo il Cristo che è la Lucania ma abbiamo anche tutto il Miele Infinito che è un diario di viaggio in Sardegna le parole sono pietre che è un'esplorazione della Sicilia e poi un altro libro di cui si parlerà nei prossimi giorni che è la doppia notte dei Tigli che è una citazione di Goethe ed è un viaggio in Germania interessantissimo perché ai primi anni 50 non c'è ancora il muro c'è il dopoguerra e lui legge nella coscienza va essenzialmente per birrerie perché lo troviamo anche in locali piuttosto malfamati perché si diverte ma riesce a cogliere il peso della storia nella coscienza o nei silenzi collettivi della Germania ed è un libro in questo senso molto attuale perché a decenni di distanza siamo ancora a fare i conti con quella memoria forse più in Italia che in Germania e poi va in Russia va in Cina negli Stati Uniti e racconta racconta il mondo attraverso la sua esplorazione di viaggio che non sono mai dei viaggi fine a se stessi c'è sempre questo forse questo più o meno consapevole desiderio di metterli poi sulla pagina ecco come possiamo descrivere non dico definire il Carlo Levi non del Cristo ma di tutto quello che ha scritto prima e dopo il Cristo e che non è questo libro iconico che poi ci hanno diciamo imposto o ci hanno proposto nelle letture scolastiche poi uno di quei libri che letti dopo ti fa un effetto completamente diverso Filippo Laporte no è vera questa cosa sì forse bisogna pensarci di più a questo rapporto della letteratura di Carlo Levi con i luoghi è vero sai lui si fa ispirare dai luoghi proprio perché non è lui non è un autore solipsistico no cioè lui si fa ispirare da quello che incontra no appunto i luoghi l'altro e e però lui ogni volta cerca di inventare una lingua che ci permette di rivelare quel luogo ecco diciamo lui per Levi l'arte ecco in questo non è proprio neorealista perché l'arte non è che riproduce la realtà ma la rivela no ne rivela proprio la verità abbagliante no e ogni volta lui cerca di capire qual è la lingua più adatta le tecniche per riuscire a snidare no questo il nucleo più nascosto dalla realtà ma questo lo pensava anche Pasolini certo cioè per entrambi la realtà contiene anche il sacro la realtà contiene una dimensione sacra un po' sfuggente misteriosa quindi il problema non è riprodurre la realtà no il neorealismo pensava pensava che l'arte fosse appunto mimesi naturalistiche non è quello il punto per Pasolini ogni cosa era se stessa e rimandava ad altro ecco questa è l'idea del sacro diciamo intrecciata con quella di realtà quindi è vero lui si fa ispirare dai luoghi ha scritto questi libri magnifici che tu ricordavi ha scritto pure un libro dunque tu dicevi il futuro è un volto antico quello sull'Unione Sovietica perché per me è il più brutto che ha scritto Levi si può dire Levi in questo era così ottimista aveva un ottimismo così fisiologico che lui non ce la faceva vedere tutti gli aspetti involutivi nell'Unione Sovietica lui vedeva contadini dappertutto lui girava per Mosca erano tutti contadini lucani una cosa incredibile questo è curioso a un certo punto incontra Gagarin l'astronauta dice sembra un contadino di Matera allora uno dice vabbè questo un po' proietta qualche cosa e fu preso in giro da per esempio da Nicola Chiaromonte su Tempo Presente che gli disse oddio Levi va pure in Cina pure lì troverai contadini in Cina cioè era un po' così quindi quel libro no in quel libro c'è una forte proiezione mitologica lasciamolo stare ma ovunque si fa ispirare dai luoghi ed è un attentissimo osservatore lui ha uno sguardo veramente da finissimo antropologo sui luoghi adesso io vi dico faccio solo un esempio perché sono romano come ha capito Roma Carlo Levi io credo non lo so credo l'ha capita più di tutti gli altri ha scritto molte pagine su Roma Roma fuggitiva citando una poesia di che vedo vi dico solo un esempio vi faccio lui viene a Roma nel 45 ci rimane fino alla morte nel 75 e a un certo punto va a abitare a Trastevere a un guasto a un guasto nel bagno chiama l'idraulico appunto il tipico romano Trasteverino allora lui dice ma Levi gli domanda cosa c'è che cosa vede quello traffico col bidet cosa vede dottor bisogna sfasciar tutto allora Levi dice i romani hanno un'attrazione per la catastrofe no questo guardate è un'intuizione guardate straordinaria a Roma più che in qualsiasi altra città a Capodanno vent'anni fa buttavano tutto lo sapete dai balconi perché nella catastrofe i romani forse intuiscono un principio di rinnovamento mettetela come volete ma lui Roma l'ha capito e ha capito benissimo anche una che a Roma una volta la macchina rimase in panna a Villa Borghese dei ragazzi lo aiutano spingono la macchina e dopo un po' lo sfuttano dice ammazza sta macchina dice ma che è targata cartaggine eccetera allora Levi dice i romani sono tutti così fraterni ma dispettosamente fraterni e questa guardate è una profonda verità sui miei concittadini quindi questa cosa è verissima poi però ecco giustamente diamo rilievo anche alla produzione di Levi che non è il Cristo e allora mi soffermo solo un momento e poi do la parola a Luca e Beatrice mi soffermo solo su un altro libro importantissimo di Carlo Levi che è L'Orologio L'Orologio un libro per me diciamo il romanzo politico più bello del novecento italiano più bello del novecento per certi aspetti lo accosto a uscita di sicurezza di Silone che è un grande memoriale politico diciamo beh L'Orologio scritto nel dopoguerra è un romanzo di idee e nello stesso tempo un romanzo picaresco è un romanzo davvero avvincente a metà del libro perché il libro è occupato in gran parte dalle conversazioni di Carlo Levi con Vittorio Foa tutti gli azionisti ma a un certo punto deve andare a Napoli e allora affittano una macchina quanto ci mette da Roma a Napoli non so l'intera giornata a un certo punto incontra dei briganti cioè sembra sembra ombre rosse di John Ford cioè è un viaggio quasi in diligenza quindi è un romanzo non solo è un romanzo di idee di conflitto di idee ma è un romanzo anche picaresco e sulle idee vi dico però anche quest'altra cosa che davvero politicamente adesso non penserete che esagero ma politicamente lei Levi ha fatto sempre politica con la mentalità però in politica questo vuol dire che c'è una critica della politica in Carlo Levi Carlo Levi assume la politica non non tanto come tecnica per conquistare il potere aspetto ineliminabile quindi non macchiavellicamente Machiavelli è uno scrittore immenso immenso però il modello del principe è la politica come guerra non ci sono dubbi su questo già il discorso sulla prima decada è diverso ma il principe è così ecco Levi dice no la politica contiene una dimensione educativa e autoeducativa questa è la politica ha un'idea pedagogica della politica come trasformazione di sé come trasformazione delle coscienze lui nel 34 scrive questa frase meravigliosa il problema non è sconfiggere il fascismo ma sconfiggere il fascismo dentro di noi capite che c'è veramente un altro sguardo sulla politica come quando Martin Luther King diceva le lotte contro la segregazione non servono tanto a raggiungere quegli obiettivi servono a educarci a pensare noi stessi non più come vittime ma come soggetto ecco diciamo tutto questo aspetto io davvero mi è capitato di mettere in relazione con la politica con i movimenti non global con l'idea prima già l'ho detto democrazia come autonomia come autogoverno come costruzione dal basso quindi una dimensione civica e e un impegno etico individuale questo era molto per Levi e mi ha fatto piacere che due anni fa quando hanno ristampato paura della libertà c'era una prefazione di Agamben io tutto mi separa da Agamben questo ve lo voglio dire almeno oggi oggi quasi tutto mi separa da Agamben non entriamo nel merito ma devo dire in questa prefazione Agamben non solo lui lo accosta a Primo Levi perché entrambi appunto sono stati portavoce di una umanità sommersa ma dice Agamben parlando proprio dell'orologio l'orologio è il grande romanzo sul tradimento della resistenza sul tradimento di tutti gli ideali della resistenza e dice appunto Agamben beh dopo la caduta del governo Parri che descrive l'orologio i partiti politici e il potere economico si sono mossi in una direzione opposta a quella proposta da Levi uno stato centralizzato e anche associazioni di categorie centralizzate i contadini beh voi sapete che cosa è toccato ai contadini non certo l'autonomia dei comuni rurali ma appunto la deportazione in massa verso le fabbriche del nord ecco davvero è stata una prefazione importante questa di Agamben perché ha sdoganato Carlo Levi ce lo possiamo dire scherzosamente cioè Carlo Levi è diventato improvvisamente un autore importantissimo cioè lo ha reso accettabile per tutto un coté intellettuale che ama Heidegger che ha i brividi dell'estremo di tutta quella faccenda lì che diffidava di Carlo Levi dopo la prefazione di Agamben è stato sdoganato meno male e diciamo che anche forse l'unica la cosa almeno più leggibile l'ho capita anch'io Agamben quando scrive la prefazione lei mi ha trasformato Agamben sì e ha anche trasformato la mia percezione di Agamben mettiamola così io vorrei poi vi anticipo che vorrei poi fare un ultimo giro su di lui sui suoi tratti sul suo narcisismo su quello che però adesso a Luca tocca riprendere il filo di Pasolini sì in realtà era proprio un'idea così sai quelle che ti vengono quando ascolti le altre persone parlare muore nello stesso anno in cui muore Pasolini ma la cosa curiosa è che nel 1900 direi poche settimane prima della morte Pasolini partecipa live ad una performance di Fabio Mauri che si intitola intellettuale e usa il corpo Fabio Mauri usa il corpo del poeta per proiettare delle immagini sul corpo dell'artista corpo in questo caso vestito dell'artista e la performance si chiama intellettuale è un bel dire abbiamo un bel dire che loro non si volevano che quella parola diciamo così suona oggi indubbiamente un po' un po' desueta di solito snob non lo so noi siamo inquaribili snob e ce lo possiamo permettere però desueta nel senso che uno fa di solito di che cosa se tu avessi chiesto a Carlo Levi di che cosa ti occupi lui ti avrebbe guardato un po' stranito dipende dai giorni o dipingo o scrivo o dico la mia sulla politica il discorso invece è legato all'intellettualità che non è l'intellettualismo e sia chiaro ma sono stato a visitare durante le vacanze natalizie una mossa di Carlo Levi alla fondazione Raghianti a Luca improntata soprattutto sul rapporto che Carlo aveva con l'altro Carlo che si chiamava anche Ludovico Raghianti cioè uno dei massimi storici dell'arte del secondo novecento anche qualcosa prima ma in generale del secondo novecento ebbene ciò che mi ha colpito veramente tanto è il continuo travaso di energia di scambi di informazioni di pareri anche di battutacce ai limiti del triviale qualche volta tra persone che nei loro ambiti si potevano giustamente considerare degli intellettuali o perlomeno che avevano un approccio fortemente intellettuale scusa posso prendere non è che voglio autocitare me stesso e che non lo faccio grazie è una promozione ecco sì prendete questo meraviglioso catalogo dove c'è un testo di Elena molto bello ecco ma qui allora pensate tra il 46 e il 47 Levi firma il manifesto della nuova associazione artistica con Birolli Cassinari Guttuso Leoncillo Morlotti Pizzinato Santomaso Vedova Eviani ora lì il dibattito come vi ho detto prima era legato anche a questo rapporto con il grande vate assoluto che comunque era Picasso e lì non se ne esce nel senso che Guernica è un paradigma dopo Guernica infatti c'è l'oltre Guernica l'artista non può non dire la sua non può esprimersi nei confronti del mondo e gli altri che gli dicono no ma guarda che c'entra la pittura è un fatto di strutture di forme non è solo di da scalica ma soprattutto che nel 1947 escono quindi due anni dopo la fine della seconda guerra mondiale lettere dal carcere di Gramsci tempo di uccidere di Flaiano che vince il primo premio strega il dolore di Ungaretti sequesto un uomo di Primo Levi il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino il compagno e dialoghi con Leuco di Pavese il cielo rosso di Berto cronache di poveri amanti di Pratolini la romana di Alberto Moravia vi basta? tutto questo nel 1947 cioè due anni dopo la seconda guerra mondiale sono anni in cui il dibattito per esempio sulle arti visive è veramente forte cioè chi si formava in quegli anni sentiva da una parte due divisioni credo che lo raccontasse bene Ugo Pirrono in quel libricino per Sellerio vero? Osteria dei pittori eccetera in cui si davano le mazzate tra figurativi e astrattisti a Roma soprattutto e poi c'erano delle situazioni per cui per esempio i pittori milanesi raramente guardavano ciò che facevano i suoi colleghi romani da questo punto di vista per esempio Carlo Leu un altro atipico perché voi sapete che i torinesi voi siete torinesi giusto? wow i torinesi hanno questa cosa terrificante ancora adesso a distanza di decenni che ogni tanto mi dicono ma quando è che facciamo una bella mossa sulla pittura torinesi io rispondo ma chi vuoi che gliene freghi qualcosa no? praticamente nulla vedere un torinese pittore molto torinese all'inizio che gira tutta l'Italia che si assume che assume in sé i colori di altre terre è veramente atipico perché lo stesso Casorati forse il più grande pittore torinese del novecento è profondamente radicato qua Levi no Levi tutto sommato lo diresti torinese sì forse per il momento dei sei dove peraltro aveva vent'anni e quindi lui che non è mai andato in accademia e che ha imparato a far pittura da solo è chiaro che vedeva delle cose ma tutto sommato questa torinesità nella pittura per esempio non c'è e lui è davvero dentro un dibattito che è almeno nazionale da questo punto di vista e lo ritrovo particolarmente interessante e sì allora un Levi davvero intellettuale anche nella pittura la pittura a differenza di ciò che scrivono che ho letto su alcuni testi non è qui cito primo Levi invece l'altrui mestiere di Carlo tutt'altro tutt'altro assolutamente no e c'era quella mostra che forse Filippo tu hai visto a Roma qualche anno fa le violon d'Engle a Villa Medici in cui tra l'altro raccoglieva appunto queste figure ibride così no tra vari vari linguaggi e c'era anche Carlo proprio per questa sua grande capacità di essere abbastanza piuttosto coerente nelle due formulazioni linguistiche che è di una rarità aggiungiamoci poi il torinese apolide e ne facciamo sono una figura molto particolare particolare sì hai centrato diciamo il prossimo giro di chiacchierata che è quello di un Carlo Levi atipico allora io l'ho detto e lo ripeterò per me si tratta di un innamoramento senile io mi sono innamorata di questo senile io senile lui senile di tutte e due chi più chi meno e la mia squadra di lavoro poveretta si è sobbarcata a questo innamoramento perché non è un'infatuazione è una roba più tenace una delle ragioni di questo mio innamoramento è la sua la sua capacità innata comunque il suo istinto ad essere sempre fuori dagli schemi non è mai inquadrato perfettamente in quello che è in quello che fa anche nella politica perché fa politica è senatore ma è indipendente di nome e di fatto anche nella scrittura e anche anche quando quando dipinge anche nel suo approccio perché appunto è capace e racconta l'inuccia Saba che un giorno ad Alassio per evitare le molestie dei nipoti preadolescenti perché erano era tutta la famiglia lì c'era c'era troppo casino lui si mette in un angolo e dice oggi ho fatto due quadri così poi il giorno dopo non ha voglia di dipingere prendeva pesca sono tornato abbiamo preso due delfini cioè cacciavano i delfini ad Alassio forse era uno solo però tra delfini tartarughe insomma faceva man bassa della fauna e forse anche della flora marina adesso infatti di tartarughe da quelle parti non se ne vedono più è colpa di Carlo Levi però quello che stupisce sempre di lui è questo essere puntualmente non inquadrabile in generi letterari in generi artistici anche nel suo carattere persino e qui vorrei tornare perché è una cosa che è piuttosto intrigante la sua vita sentimentale cioè lui non si è mai sposato ha sempre avuto una ricca vita sentimentale fatta di innamoramenti sempre un po' sbilanciati lui si perde per la bella russa Viti Agurevic però Anna Maria Eichino che lo che lo protegge lo nasconde nel 43 a Firenze lui e che è lei che lo invita lo spinge lo costringe a scrivere il Cristo il Cristo si è fermato a Evoli è stato scritto durante le persecuzioni razziali quando lui era nascosto a Firenze e se faceva tanto di uscire di casa i tedeschi lo prendevano lo portavano nel campo di sterminio quindi è anche suggestiva questa doppiezza di raccontare la libertà del confino mentre sei chiuso a riparo dalle persecuzioni razziali e Anna Maria Eichino è innamorata di lui e lui si concede ma non troppo e così sarà anche questo rapporto meraviglioso con Linuccia Saba in cui una parte della fascinazione di lui sta sicuramente in questo padre che occupa tantissimo spazio nelle lettere perché Linuccia parla tantissimo di suo padre e Carlo Levi anche quando risponde ecco anche la sua vita sentimentale ricca non dimentichiamo che lui è stato mandato al confino prima a Grassano che è una cittadina lucana decisamente più più grande più più urbana di Alliano poi poco dopo arriva Paola Levi a trovarlo Paola Levi è la moglie di Olivetti Adriano Olivetti in quel momento ma è anche la sua amante vivono una storia molto lunga e dopodiché appena lei parte la polizia lo trasferisce ad Alliano perché immaginava che Paola fosse andata a trovarlo per ragioni di militanza antifascista invece lei è andata per stare con lui perché si amavano e subito dopo viene trasferito in questo posto decisamente più remoto lontano da tutto che è Daliano di cui appunto scriverà durante la clandestinità delle persecuzioni raziali ecco anche in questa sua vita sentimentale ci sfugge è inafferrabile e anche sorprendente ed è probabilmente tutto frutto di questa sua strabiliante curiosità per il reale e per l'umano che lo porta anche nella vita sentimentale a esplorare modalità decisamente irrituali di legami ecco vorrei se siete d'accordo concludere questo giro di interventi provando a così a raccontare qualcosa anche su questo suo narcisismo che diciamolo era molto narcisista pur sempre con la consapevolezza dell'autoironia però era anche un uomo amabilmente narcisista sì certo lui quando lo vediamo anche in certe foto nei video quando negli anni 50 torna in Basilicata va nei paesi dove era stato al confino va ad Aliano e ci sono tutti i contadini che gli baciano la mano stanno tutti lì sembra lui sembra non so un signore un feudatario un gran signore e certo questo fa parte del personaggio ma mi sembra giusto quello che dicevi lui è sempre disallineato rispetto a se stesso questo mi sembra molto giusto c'è sempre uno scarto ma perché perché questo rinvia alla sua identità che è un'identità plurale credo che stasera l'abbiamo detto è un'identità fatta di molte appartenenze lui è gobbettiano ma anche standaliano capite lui è moralista ma anche vitalista iper vitalista questa è proprio l'identità di Carlo Levi la sua ricchezza lui è un critico della modernità radicale però non cede mai a una mentalità apocalittica vi ho detto prima del suo ottimismo fisiologico letterariamente certo lui si potrebbe anche far entrare grossomodo in un filone realistico però poi no perché poi lui è attratto dal barocco e proprio nell'orologio ci sono delle descrizioni bellissime delle nuvole delle nuvole barocche che stanno nel cielo nel cielo sopra Roma quindi questo ecco questa è un po' la faccenda e pensavo al narcisismo l'amore di sé però quest'amore di sé si continua nell'amore per gli altri e qui pensa alla sua professione di medico lui non ha mai fatto il medico ha studiato a Torino se l'ha avreato però poi quando è andato al confino tutti i contadini andavano da lui per farsi curare cioè era diventato una specie di taumaturgo no adaliano io appunto in questo libro che ho scritto recentemente sui medici scrittori parlo di lui di Selin e di e di Tchaikov tutti e tre diversissimi però tutti e tre alla fine hanno curato gratis i poveracci no tutti e tre in qualche modo attratti dal basso ora lasciamo stare Selin tutto l'obnubilamento dell'ultimo Selin però tutti quanti si sono messi a curare la povera gente gli umiliati ed offesi e tutti e tre lui Tchaikov Selin sono al loro mondo dei moralisti e moralisti anche intrattabili ecco diciamo questa esperienza come medico io la trovo la trovo importante bisogneria parlarne di più prima vi ho detto anche che lui oscilla tra le due culture la cultura umanistica e la cultura scientifica lui scrive dei saggi letterari stupendi ce n'è uno su Tristram Shandy quindi proprio un testo un romanzo settecentesco ma sperimentale lui è innamorato di Tristram Shandy di Stern ma a un certo punto fa un elogio di Spallanzani davvero bellissimo Spallanzani che era ovviamente uno scienziato importante soprattutto per quello che aveva scoperto sulla digestione e a quel punto Levi dice Levi è folgorato da questa cosa da questa ricerca sulla digestione l'idea di natura in Levi la natura non è né buona né cattiva per Levi lui dice in un altro articolo che dalle stelle ci viene il cancro perché lui dice ci viene dai raggi cosmici però nello stesso tempo ci viene un'idea di bellezza quindi la natura sta lì non è né buona né cattiva però e questa è una cosa poco indagata in realtà lui non credo che fosse praticante ebraico assolutamente laico e credo che sapesse molto poco di cultura ebraica però è curioso come c'è un'idea etica che in qualche modo si può far risalire diciamo al Talmud eccetera per cui per Levi lo dice da qualche parte agire eticamente significa agire al ritmo delle cose c'è un po' quest'idea cioè come dire seguire l'inclinazione del mondo questo significa agire eticamente questa è un'idea profondamente ebraica ecco qui concludo su quest'immagine che viene proprio dalla sua esperienza come medico che è quella l'ultima metafora di Levi la sua più celebre è quella dei luigini e dei contadini che troviamo nell'orologio i contadini sono quelli che fanno il loro lavoro e amano quello che fanno i luigini invece no i luigini hanno sempre secondi fini ai luigini piace comandare o obbedire ecco ma nell'ultimo libro il quaderno a cancelli lui ha avuto un periodo di cecità provvisoria per cui si era costruito una specie di quaderno di legno con cui riusciva a scrivere anche senza vedere nel quaderno a cancelli lui inventa questa metafora che è un'altra polarità un'altra opposizione tra diabetici e allergici allora per Carlo Levi gli allergici chi sono? sono gli intolleranti tutti quelli insofferenti verso qualsiasi alterità gli allergici vogliono immunizzare l'esistenza contro se stessa e ovviamente qui aggiungo io oggi viviamo in un mondo pieno di allergici perché ovviamente sono allergici i populismi sono allergici tutti i nuovi fascismi con con questa paranoia identitaria con questa con la paura del contatto una cosa terrificante più allergici di questi l'ossessione dell'impurità o di radici le radici sono solo immaginarie basta con ste radici ecco questi sono gli allergici però dall'altra parte ci sono i diabetici che ovviamente lui era pure diabetico per questo ha avuto questo periodo quindi e per lui i diabetici sono invece metafora di tutt'altro i diabetici dice Carlo Levi si aprono inermi come Cristo alla dolcezza del mondo dice così e i diabetici accettano la vita tutta intera senza preclusioni senza difese preventive accettano accettano la realtà che è soprattutto relazione ecco diciamo quindi seguendo un po' questa suggestione di Levi proviamo tutti a essere un tantino meno allergici grazie non so se nella pittura il narcisismo possa identificarsi in qualche modo nell'autoritratto e aggiudicare da alcuni artisti così più recenti non so penso Gilbert e Giorgio penso Luigi Ontani non avrei dubbi non è che c'è la possibilità di vedere qualche immagine dalla regia guardate questa copertina del catalogo tanto è anche l'immagine della mostra la trovate in giro vi dico che secondo me perché questa è un'immagine sbagliata e poi invece perché mi sono ricreduto che invece è un'immagine giusta vabbè adesso sentendo parlare lui allora questo è un quadro uno credo sia forse il più vecchio in mostra vero? perché il più vecchio autoritrato ed è datato non è il più vecchio perché sai che tu mi mettono tutto quanto ed è un quadro del 29 quindi nel 29 Carlo aveva 26 anni giusto? 27 sì e non so se riuscite a vederlo ha la barba questa cosa della barba è interessante perché lui si farà un autoritratto con la barba nel 73 nel 73 quelli che ci sono ad Aliano ai presenti di cui abbiamo messo il prebarba quello prebarba che fa effetto perché noi abbiamo il barba del 27 e il prebarba del 73 esatto e poi lui si farà un altro quadro in cui si ritrae con la barba una barba ovviamente bianca e abbondante e io questa immagine quando l'hanno scelta non è che volessi entrare in polemica con chi l'ha scelta che poi mi ha risposto e piace al mio presidente sono contento per te però che non non ero io non sei un presidente non piace al mio presidente ah no 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 non piace al mio presidente ecco perché al di là del fatto che dipinge una natura si autoritrae mentre dipinge una natura morta certamente sesaniana perché sesan è comunque per Carlo Levi forse l'unico punto di riferimento vero di ingresso della pittura nella contemporaneità ovvero quando la pittura diventa questione di linguaggio non più soltanto di rappresentazione della realtà ebbene dipinge come vedete a letto io dico no porca miseria dopo 20 mesi di clausura o di chiusura si poteva cercare un'immagine un po' più dinamica su via e soprattutto visto che il titolo è viaggio in Italia luoghi e volti ho pensato mettiamogli una faccia con dietro un paesaggio non c'è stato verso però poi a riguardarla bene sentendo anche le parole di Elena e di Filippo in realtà è lui è proprio Carlo qui è proprio un Carlo giovane è proprio un Carlo iper narcisista talmente narcisista che se ne sta spaparanzato a letto comodo comodo bellocio con questa bella barba e un bel taglio di capelli in un momento forse in cui era ancora abbastanza tranquillo e poteva dipingere la sua natura morta sesaniana noi ne abbiamo scelti quattro di autoritratti in mostra uno con la pipa perché ci piaceva l'idea di far vedere qualcuno che fuma visto che se fai una cosa del genere adesso è il demonio ma di solito lui in realtà fumava il sigaro però c'è questa pipa un po' la maigret un po' parisiana effettivamente con questo fondo vagamente ciano che risente molto dell'influenza dei sei e poi abbiamo un altro ritratto a sud con altre figure con altre figure femminili due figure femminili che dicono molto di lui con due figure femminili comunque la femminilità è decisamente importante nella vita di Carlo al di là di quello che raccontava prima Elena ma davvero era un personaggio un uomo che amava le donne per citare Truffo ma certamente anche molto amato dalle donne perché non so se tu hai avuto modo di incontrarlo di conoscerlo no però certamente è stato un letterato un personaggio anche molto noto al suo tempo molto molto popolare certo lui è morto nel 75 quindi noi non avremmo fatto in tempo se non da ragazzini però è evidente che era si vede anche in quale foto che ci sono lì di Mario Carbone in quello che diceva prima Filippo cioè una specie di sacerdote laico di Don Carlo il Don Carlo che scende e l'ultimo ritratto invece è un ritratto assolutamente melanconico di un uomo tanto non così vecchio non così certamente un po' malandato nelle salute ma non così vecchio che è più vecchio di quello che si di come si rappresenta certo è che l'autoritratto costituisce per chi fa il pittore o il fotografo insomma chi lavora con se stesso indubbiamente una buona dose di narcisismo è curioso che nei numerosissimi autoritratti di Carlo Levi anche sulla Lucca ce ne sono esposti 4-5 in questa bella mostra alla Fondazione Raghianti quella di sapete che è inaugurata oggi una grande mostra di Carlo Levi a Nuoro in Sardegna hanno avuto poveretti la sfiga di uscire due giorni dopo di noi li abbiamo massacrati a livello mediatico non si aggiustano però ecco si prendono vero Giorgia d'altra parola la guerra è guerra come diceva Sardi ecco questo è l'autoritratto a cui io facevo facevo riferimento prima che è molto parigino molto di gusto parigino e quel bel ciano del fondo che è invece assolutamente sei e poi non so facciamo farvi a questo punto facciamo vedere anche l'altro e ci ho preso gusto quello con le due signore che lo accompagna eccolo qua vedete ecco sì quella col velo che aveva aveva questa gli avevano provato dopo molta fatica ad Aliano una domestica il problema è fargli entrare far entrare in una casa a farle pulizie governare la casa stessa di un uomo solo quarantenne eh no trentenne perché erano trentacinque eh sì trentenne e quindi hanno poi trovato ad Aliano questa donna che aveva sfornato figli in quantità sempre con partner diversi che aveva un amante più giovane di lei con i capelli roschi faceva il barbiere insomma una donna libera che però ha quest'aura un po' magica inquietante e che ben presto gli dice guarda che se c'è da fare qualcos'altro oltre a spazzare pulire cucinare io sono qui insomma e non voleva per tanto tempo non voleva farsi dipingere perché portava al malocchio però io penso che lui subisse una cosa che voglio dire a Luca perché non mi perdo questa occasione no mi sono ricordato che quando lui ha esposto alla Biennale di Venezia nel 54 si è preso le bacchettate di Roberto Longhi il quale diceva no il Carlo Levi pre-lucano era di livello europeo questo qui lui addirittura parla di cronaca spenta a proposito dei quadri di Levi tu come questa cosa è interessante quello che diceva intanto va precisato che Carlo Levi di Biennale ne ha partecipato a diverse anche durante il ventennio e quindi era certo un'altra formulazione rispetto al presente oggi il Sinevitate della Biennale di Venezia è durissima all'epoca era un rassegnone sull'arte italiana e capisco le parole di Longhi che pensava giustamente che nella contemporaneità ci fossero tre pittori Morandi Morandi e Morandi ecco Giorgio nel senso che cioè per lui se di contemporaneità si doveva parlare dei suoi contemporanei Morandi e lo capisco lo capisco perché uno che insomma tra l'altro autore credo della miglior prosa d'arte del novecento non penso che ci sia con buona pace insomma di 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 ecco posso capire che questo tipo di pittura diciamo quella dagli anni cinquanti in avanti potesse infastidirlo ma a dirla tutta credo che in generale non abbia avuto una grande fortuna critica questa pittura questa seconda questa seconda fase che poi dura dura quasi vent'anni anche se Carlo è talmente eclettico anche che poi chi andrà a vedere la mostra troverà un quadro tardivo che sembra un doganiere russo impazzito cioè che è il parco della villa di Alassio troverà gli ultimissimi quadri dove si capisce che la mano è andata nel senso che non riesce più neanche a tenere l'idea di vero similianza di vero e diventano quadri proprio materici un po' spenti mi piace l'ultimissimo quadro l'ultimo autoritratto si colloca la barba lì arriva da Liano cioè è chiaro che in una linea di pittura e che oggi se tu vedi Morandi tra l'altro anche adesso hanno appena terminato una grande mostra all'estero e insomma viene considerato uno dei vertici dell'arte italiana del novecento seppure poi c'è stato Burri seppure poi c'è stato Fontana eccetera eccetera però indubbiamente quel silenzio quel portare la pittura verso il suo grado zero cioè perché contemporaneo Morandi e Carlo Levi no perché Morandi fa pittura figurativa senza avere più il problema del soggetto lui può basta spostare un bicchiere e fare un altro quadro Carlo Levi ha bisogno di quella dell'incontro della visione la pittura è lievemente meno audace e meno sperimentale che in letteratura lo potresti dire o no? non lo so perché non conosco così bene la letteratura di Carlo onestamente non lo so direi veramente ma forse più audace è meno cioè ugualmente sfuggente inclassificabile anche lì dici ok no devo dire io poi ho abbastanza una passione forse insana e c'entra anche Elena però io ve lo voglio dire perché che si sviluppa soprattutto quando tu vai a studiare degli artisti intanto che non avevi studiato abbastanza e poi che vai a studiare degli artisti su cui in questo momento non c'è una grande fortuna critica anche se noi lo stiamo rilanciando alla super grande è vero però anche azioni stanno andando alle stelle per colpa nostra Luca Nuro questa mostra tutto questo che stiamo facendo qui a Torino indubbiamente se lui non avesse avuto credo il cotè intellettuale letterario avremmo fatto molta più fatica col pittore solo secondo me non so se ce l'avremmo fatta ecco questo una cosa che volevo dirvi che prima non ho detto bisognerebbe scrivere un capitolo di storia letteraria sull'influenza di Levi su tutta una generazione di scrittori lui ha avuto un'influenza enorme su Pasolini per questa idea di realtà per cui la realtà contiene una dimensione mitica il sacro eccetera ma anche su Calvino perché c'è un forse il libro che io più amo di tutti quelli che ha pubblicato Donzelli dei suoi articoli in un libro ci sono tutti i suoi scritti sugli animali è un libro meraviglioso lui dice gli animali gli piacciono tanto perché non conoscono il progresso è un libro bellissimo e il Calvino di Palomar che si mette a descrivere la tartaruga l'iguana secondo me anche lui viene da Calvino da Carlo Levi e anche Elsa Morante che lo amava tantissimo proprio l'idea di realtà che aveva Elsa Morante anche quella in qualche modo proviene da Carlo Levi quindi anche qui è un capitolo da scrivere ecco per esempio non so anzi sono abbastanza sicuro in realtà che rispetto a possibili lasciti dal punto di vista della pittura non ce ne siano poi molti anche perché veramente la storia dell'arte che ha fatto lo stesso Guttuso che è un grande artista senza dubbio però è stata premiata tra virgolette più un'altra linea ancora adesso mi trovo a studiare un caso devo dire molto forse meno pregno rispetto a quello che abbiamo raccontato fin qua ma la linea poi prevalente è quella che dall'astratismo va si porta dietro un po' di informale poi verso il minimalismo l'arte povera un pezzettino di pop però indubbiamente è un'altra storia ecco è molto interessante quello che hai detto su quanto abbia pesato su una parte grande parte della letteratura italiana successiva lui però la pativa anche la viveva perché ad esempio ci sono delle lettere in cui segue cioè in cui non prima e dopo il rifiuto di presentare il suo libro l'orologio al viareggio che danno tutta la percezione di come sentisse a livello epidermico e anche profondo la partecipazione al mondo letterario cioè non fu mai un'icona un maestro e anche con Calvino aveva un rapporto non facile si frequentavano spesso soprattutto quando lui era ad Alasio però era sempre un po' piacevolmente sulle spine e Calvino stroncò il Cristo quando Calvino era molto comunista appunto appena dopo la guerra per lui il Cristo diciamo implicava un'idea decadente addirittura questo fatto la civiltà contadina negazione della storia quindi quello fu un libro che venne venne stroncato dalla stampa comunista non c'è dubbio perché grossomodo adesso c'erano due linee la linea che era quella appunto Pavese De Martino che voleva studiare il cosiddetto irrazionale dunque Pasolini lo chiamava il poco razionale quindi l'irrazionale il sacro il simbolismo mitico rituale di queste culture eccetera e invece poi c'era una linea più positivistica illuminista eccetera che in quel momento Calvino incarnava quindi non poteva che giudicare negativamente il Cristo ecco sarebbe bello prima o poi avevo una dibattuta che si scrivesse un saggio anche breve un articolo sui tre grandi quadri epici degli italiani del novecento cioè il quarto stato il Lucania 61 e i funerali di Togliatti di Guttuso ecco forse c'è forse c'è solo che io scrivo su Libero se glielo propongo mi bene io mi sono divertita un sacco spero anche voi e spero anche che vi siate un po' innamorati di Carlo Levi grazie grazie